Qual è la parte che ti piace di più dell'uomo? L'onestà E il rispetto Ma la parte del corpo intendo Ma che mi piace il corpo? Che Dio Dai, sincera, qual è la parte del corpo che ti piace di più dell'uomo? Il denietro Cosa? Sincera Coglioni No La porca smutellata, no, mi fai di romperlo, eh La pensione Ma quella non è la parte del corpo Eh, è la parte del corpo suo Perché? Eh, perché Se non c'è il corpo la pensione è una piglia Dai, quale parte del corpo ti piace? Ah, che parla, mamma mia, i peli I peli? Ma perché? Eh, è vero